laudetur jesus christus cari amici tele radio ascoltatori e per luigi bianchi cagliesi vi parla oggi 9 gennaio 2021 per il nostro commento del giorno e mi sono preso qualche ora in più rispetto alle tempistiche dei vari giornali delle varie emittenti per fare un primo piccolo approfondimento su quello che è accaduto negli stati uniti il 6 gennaio e soprattutto per cercare di inquadrare tutto questo caos e questa situazione veramente incredibile che si sta verificando sempre nella luce della teologia della storia secondo quello che è il piano di dio in questo momento per la salvezza del mondo in modo particolare e degli stati uniti dell'italia che è coinvolta direttamente in in prospettiva proprio di far emergere sempre di più la verità quella verità che sta portando alla luce cose veramente impressionanti come comunque avete potuto constatare ormai tutti i media tutti gli organi di informazione tutte le emittenti ufficiali danno ormai per certa la vittoria di biden confermata sembrerebbe anche dal presidente trump che dichiara di avere in qualche modo accettato che questa situazione ormai venga di fatto ufficializzata e e che appunto si attribuisca al personaggio biden appunto una vittoria che certamente comunque non è non esiste perché sappiamo ormai chiaramente e non c'è ombra di dubbio su questo che gli stati uniti hanno subito una delle più grandi truffe elettorali della storia che è qualche cosa che comunque sia avrà degli strascichi e delle ripercussioni notevolissime non escluso anche a breve scadenza e quello che è successo negli stati uniti appunto a washington nel 6 gennaio con questa protesta corale da parte di americani che si sono sentiti defraudati presi in giro truffati in pieno no in un sistema che prepotentemente e proprio in opposizione alla verità stessa cerca proprio di andare avanti no incurante in modo assoluto di quella che è la realtà stessa che sta emergendo in maniera sempre più chiaramente quindi mentre si afferma questa vittoria che vittoria non è perché certamente è l'esito di una truffa elettorale mai vista che è qualche cosa di inimmaginabile negli stati uniti che evidenzia proprio questo problema gravissimo no dello strapotere di questi poteri mondialisti massonici che non accettano e non si piegano in nessun modo nemmeno davanti all'evidenza di fatti spesso inconfutabili però sapete che quando proprio il demonio sembra che abbia raggiunto ormai la sua vittoria finale non è detto che qualche falla si possa aprire che la situazione possa poi invece precipitare improvvisamente e vedete proprio in queste ultime ore sono emersi dei fatti molto significativi che potrebbero anche determinare un improvviso intervento non lo possiamo escludere del presidente trump perché fino al 20 gennaio ricordiamo che ancora in carica presidente trump e soltanto dal 20 gennaio ci sarà diciamo l'atto ufficiale dei passaggi di consegna e l'insediamento di biden ma fino a quella data ancora il presidente in carica rimane trump ebbene che cosa è successo è successo che tutto è partito vedete alla vigilia di natale di questo natale con una presa di posizione una dichiarazione di un personaggio di un'americana che si chiama maria fe parker che si trovava alla festa di trump in florida a mara lago e proprio in quel frangente ha avuto il tempo di parlare con trump anticipandogli che avrebbe ricevuto un affidavit che sarebbe praticamente una relazione confidenziale di una persona che gli avrebbe dato tutte le prove di una vicenda molto grave che coinvolge il nostro paese che adesso vi spiegherò e ha detto a trump che avrebbe dato ogni prova possibile addirittura dell'informatore che ha fermato l'affidavit e che è colui che ha finito di caricare tutti i dati nel satellite leonardo dopodiché da quel momento si è incontrata altre due volte con trump che era stupefatto ed ha preso appunti su tutti questi dati che venivano trasmessi ebbene l'autrice questa signora dicevo maria fe parker che poi dall'altro ha prodotto un video molto importante interessante parla proprio in questo video dei servizi segreti italiani e della società leonardo spa perché coinvolti nella creazione degli algoritmi usati per la frode elettorale ordita dal deep state contro trump che cosa accade accade che praticamente secondo i dati trasmessi da questa persona che comunque sembra assolutamente degna di fede tant'è che anche l'arcivesco Carlo Maria Viganò ha dato massima importanza a questa notizia chiedendone anche la diffusione perché si tratta di una notizia importantissima che conferma dei sospetti che risalgono ormai a più di un anno fa ovviamente la diffusione di questo video e anche di queste dichiarazioni produrrà inevitabilmente un terremoto perché perché secondo i dati trasmessi a presidente trump e la società leonardo avrebbe usato il proprio uplink satellitare militare parliamo di un satellite italiano militare per caricare il software di gestione del voto statunitense e trasferirlo per modificare i risultati elettorali spostando i voti da trump a bide fino adesso si sapeva che questo era avvenuto ma non c'erano prove inconfutabili su chi ne fosse l'autore e da dove questa operazione fosse partita con quali modalità fosse stata compiuta quindi chi ha organizzato questa frode credeva di essere stato molto astuto e che fosse quasi impossibile scoprirla e questo piano vedete era stato concepito da obama con l'aiuto dell'ex primo ministro renzi e i servizi segreti hanno dato al gruppo che indaga sulla frode elettorale le intercettazioni le foto le telefonate e anche le foto di un agente della cia coinvolto in questa operazione alcune foto sono anche state pubblicate su internet suscitando il panico nei membri del governo italiano che ha sostituito in tutta fretta alcuni personaggi strategici bene cari amici che cosa accadrà non lo possiamo sapere quello che è certo e che sempre con la visione che dobbiamo avere che è una visione verticale e la visione che legge penetra gli avvenimenti con gli occhi di dio e non con gli occhi dei poteri mondialisti o dei poteri occulti diciamo che la partita comunque non è ancora chiusa il che vuol dire che se emergessero nei prossimi giorni delle prove schiaccianti anche riguardo il coinvolgimento del nostro paese in questa sporchissima operazione tutto potrebbe accadere tutto potrebbe capovolgersi improvvisamente nonostante le dichiarazioni che osannano e che cantano vittoria in questo momento che danno per scontata una situazione che ormai viene considerata chiusa ma chiusa non è perché le operazioni quando poi sono la conseguenza di frodi di truffe di imbrogli di tresche orribili come quelle che stiamo vedendo in realtà è il signore la santissima vergine che le chiudono ed è il signore che a un certo punto pone un termine a queste operazioni e capovolge improvvisamente la situazione non so se qualcuno di voi ha avuto la notizia che lo scorso 28 dicembre il presidente uscente degli stati uniti d'america donald trump ha proclamato pensate la celebrazione ufficiale per l'ottocento cinquantesimo anniversario del martirio di san tommaso beckett in quell'occasione il presidente americano ha ribadito l'impegno della casa bianca nella tutela della libertà religiosa e nel contrasto l'aborto pensate tommaso beckett fu arcivescovo di canterbury dal 1162 al 1170 che fu l'anno del suo assassinio ordito dal re d'inghilterra enrico secondo plantageneto poi venne canonizzato nel 1173 da papa alessandro terzo e oltre questo occorre ricordare che è molto significativo che il presidente trump in questo momento storico abbia voluto attribuire e mettere sotto la protezione di questo vescovo martire per la difesa della verità e della fede tommaso beckett proprio gli stati uniti d'america e questo è un altro fatto molto significativo pensate che tommaso beckett divenne il capo della chiesa d'inghilterra il primate d'inghilterra quando la corona tentò di intromettersi negli affari della casa di dio attraverso le costituzioni di clarendon tommaso si rifiutò di fermare l'oltraggioso documento quando enrico secondo il furioso re minacciò di farlo arrestare per oltraggio alle autorità reali dalle autorità reali e chiese per questo prete povero e umile di chiarire perché avesse osato sfidarlo l'arcivescovo beckett rispose dio è il sovrano supremo al di sopra dei re e dobbiamo obbedire a dio piuttosto che agli uomini ma vedete siccome santo tommaso beckett non ha consentì a rendere la chiesa asservita allo stato come oggi si tenta di fare in tutti i modi fu costretto a rinunciare a tutte le sue proprietà e a fuggire dal proprio paese e solo qualche anno più tardi dopo l'intervento del papa e tommaso beckett fu autorizzato a tornare e continuò a resistere alle ingerenze oppressive del re nella vita della chiesa e alla fine il re ne ebbe abbastanza della ferma difesa della fede religiosa ai tommaso beckett e secondo quanto riferito esclamò costernato nessuno mi libererà di questo prete in piccione a questo punto i cavalieri del re risposero all'appello e la cattedrale di canterbury per intimare a tommaso beckett un ultimatum cedere alle richieste del re o morire la risposta di tommaso risuona in tutto il mondo attraverso i secoli le sue ultime parole su questa terra furono le seguenti per il nome di gesù e la protezione della chiesa sono pronto ad abbracciare la morte vestito con abiti sacri tommaso fu ucciso pugnalato dove si trovava all'interno delle mura della sua chiesa ebbene cari amici nell'atto con cui il 28 dicembre scorso il presidente americano trump ha affidato l'america di fatto sotto la protezione di tommaso beckett ha scritto un documento in cui dice queste parole io donald trump presidente degli stati uniti d'america in virtù dell'autorità conferitami dalla costituzione dalle leggi degli stati uniti con la presente proclamo il 29 dicembre 2020 come ottocentocinquantesimo anniversario del martirio di santo maco santo maso beckett invito il popolo degli stati uniti a osservare la giornata nelle scuole nelle chiese nei luoghi consueti di incontro con cerimonie appropriate in commemorazione della vita e dell'eredità spirituale di tommaso beckett beckett in fede di che ho apposto la mia firma in questo 28esimo giorno di dicembre nell'anno di nostro signore 2020 e 245esimo dell'indipendenza degli stati uniti d'america cari amici tele radio ascoltatori questi sono infatti il resto rimangono chiacchiere a tutti voi cari amici tele radio ascoltatori l'augurio di una buona giornata laudetur jesus christus laudetur jesus christus